Di Guy de Maupassant, Palla di Sego, voce di Lorenzo Pieri, parte seconda. Queste sei persone che occupavano il fondo della carrozza rappresentavano la parte della società fornita di rendite, serena e forte, la gente onesta provvista di religione e di principi. Per una strana combinazione, tutte le donne stavano sullo stesso sedile. Le altre vicine della contessa erano due suore che sgranavano lunghi rosari, biascicando paternostri e avemarie. La prima era vecchia e aveva il viso butterato dal vaiolo come se le avessero sparato una scarica di mitraglia a bruciapelo. L'altra, dall'aria molto patita, aveva una testina graziosa e malaticcia su un petto da tisica consumata dalla fede divorante che crea i martiri e gli esaltati. Di fronte alle due suore, un uomo e una donna attiravano tutti gli sguardi. L'uomo, assai noto, era Cornu De, il democratico, il terrore delle persone per bene. Da vent'anni egli inzuppava il suo barbone fulvo nella birra di tutti i caffè democratici. S'era mangiato insieme ai fratelli e agli amici un bel gruzzolo, ereditato dal padre pasticcere, e aspettava con impazienza la venuta della Repubblica per ottenere finalmente il posto che s'era meritato con tante bevute rivoluzionarie. Il 4 di settembre, forse in seguito a uno scherzo, credette di essere stato nominato prefetto, ma quando tentò di insediarsi, gli uscieri rimasti arbitri della situazione si rifiutarono di riconoscerlo, costringendolo ad andarsene. Buon compagnone, d'altronde inoffensivo e servizievole, si era incaricato con ardore senza pari, di organizzare la difesa. Aveva fatto scavare delle buche nelle pianure, aveva fatto abbattere i giovani alberi delle foreste vicine, aveva seminato trappole su tutte le strade e all'avvicinarsi del nemico, soddisfatto dei suoi preparativi, aveva ripiegato in fretta verso la città. Pensava ora di essere più utile alle Avra, dove sarebbero state necessarie nuove fortificazioni. La donna, una di quelle che vengono chiamate Allegre, era rinomata per la sua floridezza, che le aveva procurato il soprannome di Palla di Lardo. Piccina, tutta tonda, grassa, grassa, con le dita rigonfie strozzate alle falangi, simili a rosari di salsicciotti, aveva la pelle lustra e tesa, un enorme seno che le gonfiava il vestito. Pure era appetitosa e desiderata, tanto piacevole a vedersi era la sua freschezza. Il suo viso era una mela rossa, un bocciolo di peonia vicino a schiudersi, vi si aprivano in alto due magnifici occhi neri ombreggiati da lunghe e folte ciglia, e sotto una bella bocca piccola, umida, da baci, guarnita di dentini lucenti e microscopici. Ella aveva, inoltre, si diceva, moltissime inestimabili qualità. Appena la riconobbero, indignati bisbiglii corsero tra le donne oneste, e le parole prostituta e vergogna pubblica furono pronunciate così forte, che l'alzò il capo e fece scorrere sui vicini uno sguardo così ardito e provocante, che subito si fece un gran silenzio, e tutti abbassarono gli occhi, eccettuato l'oiseau, il quale la guardava eccitato. Ma poco dopo le tre signore ripresero la conversazione, divenute d'improvviso amiche, anzi quasi intime a causa della ragazza. Esse, così pareva loro, dovevano riunire in fascio le loro dignità di spose, di contro a quella svergognata mercenaria, poiché l'amore legale tratta sempre con arroganza il suo libero confratello. Anche i tre uomini, ravvicinati alla vista di Cornudet da un istinto di conservatori, parlavano di soldi, affettando un'aria sdegnosa verso i poveri. Il conte Hubert enumerava i danni che aveva patito per colpa dei prussiani, il bestiame rubato, i raccolti perduti, con la disinvoltura del gran signore dieci volte milionario, che dopo un anno avrebbe dimenticato tutte quelle rovine. Carré Lamadon, assai colpito nella sua industria di cotoni, sarà preoccupato di mandare 600.000 franchi in Inghilterra, un'inezia che teneva in serbo per ogni evenienza. L'oiseau, dal canto suo, aveva brigato per vendere all'intendenza francese tutto il vino comune che gli era restato nelle cantine, di modo che lo Stato gli era debitore di una grossissima somma che egli sperava di riscuotere alle Havre. Tutti e tre si lanciavano occhiate rapide e amichevoli. Per quanto fossero di diversa condizione, si sentivano affratellati dal denaro, la grande massoneria di coloro che possiedono, di coloro che fanno tintinnare l'oro infilandosi la mano in tasca. La diligenza andava così piano che alle dieci del mattino aveva percorso una quindicina di chilometri. Gli uomini scesero tre volte per fare a piedi le salite. Cominciò a trapelare l'inquietudine perché si era previsto di mangiare a tot e ormai c'erano poche speranze d'arrivarci prima di notte. Mentre tutti guardavano sulla strada se spuntasse una osteria, la diligenza si incagliò in un mucchio di neve e ci vollero due ore per liberarla. L'appetito cresceva annebbiando i cervelli e non si vedeva nessuna trattoria, nessuna bottega di vini, poiché la venuta dei prussiani e il passaggio delle fameliche truppe francesi avevano scoraggiato qualunque industria. Gli uomini andarono alla ricerca di rifornimenti nei casolari lungo la strada, ma non trovarono neanche un po' di pane, poiché i contadini sospettosi nascondevano tutto per paura dei soldati, i quali, non avendo nulla da mangiare, prendevano per forza quel che trovavano. Verso l'una del pomeriggio, l'Oiseau dichiarò di sentirsi una gran buca nello stomaco, ma tutti da parecchio tempo erano nelle sue stesse condizioni e il violento bisogno di mangiare, sempre crescente, aveva ucciso la conversazione. Ogni tanto qualcuno sbadigliava, imitato quasi subito da un altro. A sua volta ciascuno secondo il carattere, l'educazione, la posizione sociale, apriva rumorosamente o con modestia la bocca, tappando in fretta con la mano il buco spalancato dal quale usciva vapore. Palla di sego si era chinata parecchie volte, come a cercare qualcosa sotto le gonne. Rimaneva un momento esitante, guardava i suoi vicini, poi si rialzava con calma. I visi dei viaggiatori erano pallidi e contratti. L'Oiseau dichiarò che avrebbe pagato mille franchi per un prosciuttino. Sua moglie abbozzò un gesto di protesta, poi si calmò. Sentir parlare di soldi sciupati la faceva sempre soffrire e non riusciva neanche a capire come si potesse scherzare su quell'argomento. «Il fatto è che non mi sento bene», disse il conte. «Chissà perché non ho pensato a portare qualcosa da mangiare». Ognuno rivolgeva a se stesso lo stesso rimprovero. Cornudeux aveva una fiaschetta piena di rum. L'offrì in giro, ma gli altri rifiutarono con freddezza, tranne l'Oiseau, che ne accettò una goccia e restituendo la fiaschetta ringraziò dicendo «fa sempre bene, riscalda e inganna l'appetito». L'alcol lo mise di buon umore e propose di fare come nel piccolo naviglio della canzone, di mangiare cioè il più grasso dei viaggiatori. L'indiretta allusione a palla di sego urtò le persone per bene. Nessuno rispose. Il solo Cornudeux sorrise. Le due suore avevano smesso di biascicare Avemarie e con le mani nascoste nelle grandi maniche stavano immobili, con gli occhi ostinatamente abbassati, senza dubbio offrendo al cielo che gliele mandava le loro sofferenze. Finalmente, alle tre, mentre la diligenza stava in mezzo ad una interminabile pianura, senza nemmeno un villaggio in vista, palla di sego si chinò con vivacità e tirò fuori di sotto al sedile un largo paniere coperto da un tovagliolo bianco. Ne trasse dapprima un piattino, una delicata tazza d'argento, poi una zuppiera, dove erano due interi polli in gelatina già tagliati. Si vedevano ancora nel paniere tante altre buone cose incartate, sformati, frutta, dolci, tutte le provviste per un viaggio di tre giorni, in modo da non dover mai ricorrere alla cucina degli alberghi. I colli di quattro bottiglie sbucavano tra gli involti. La ragazza prese un quarto di pollo e cominciò delicatamente a mangiarlo con uno di quei panini che in Normandia vengono chiamati reggenza. Tutti gli sguardi erano su di lei, poi l'odore si diffuse, fece dilatare le narici, fece venire l'acquolina in bocca, provocò una dolorosa contrazione all'attaccatura delle mascelle. Il disprezzo delle signore per la ragazza divenne feroce, quasi voglia ad ammazzarla o di scaraventarla fuori della diligenza, lei, la sua tazza, il suo paniere e tutto quel che c'era dentro. L'uoso divorava con gli occhi la zuppiera del pollo. Disse, la signora è stata più prudente di noi, c'è della gente che pensa sempre a tutto. Ella alzò la testa verso di lui, ne volete signore, è brutto star digiuni dalla mattina? Egli si levò il cappello, non dico di no, non ne posso più, bisogna adattarsi, vero signora? e guardandosi intorno aggiunse, in momenti simili è bello trovare qualcuno che vi fa un piacere. Per non sporcarsi i calzoni spiegò un giornale che aveva con sé, infilò la punta di un coltello che portava sempre in tasca su una coscia lustra di gelatina e cominciò a mangiare, masticando con un piacere così visibile che si sentì nella vettura un gran sospiro d'angoscia. Allora, palla di sego, con voce umile e dolce, propose alle due suore di condividere la sua colazione. Esse accettarono immediatamente e senza alzar gli occhi cominciarono a mangiare sveltissime, dopo aver farfugliato un ringraziamento. Neanche Cognude rifiutò l'offerta della sua vicina e insieme alle suore spiegando dei giornali sulle ginocchia venne formata una specie di tavola. Le bocche saprivano e si chiudevano senza sosta, trangugiavano, masticavano, inghiottivano ferocemente. Loisò nel suo angolo lavorava sodo e a bassa voce esortava sua moglie a far come lui. Costei tenne duro per un po', ma una più forte strizzata delle viscere la fece cedere. Allora suo marito con una frase tornita chiese alla loro deliziosa compagna se gli permetteva di darne un pezzetto alla signora Loisò. Ella rispose, ma certo signore, con un grazioso sorriso e porse la zuppiera. Ci fu un po' di imbarazzo quando fu stappata la prima bottiglia di Bordeaux perché c'era una tazza sola. I viaggiatori se la passarono dopo averla ripulita. Il solo cornudé, senza dubbio per galanteria, posò le labbra sul punto dove era rimasta l'umida traccia delle labbra della sua vicina. Allora, circondati da persone che mangiavano, soffocati dall'odore dei cibi, il conte, la contessa di Breville e i carrella Madon soffrirono l'odioso supplizio che ha preso il nome da tantalo. D'improvviso la giovane moglie dell'industriale emise un sospiro che fece voltare tutte le teste. Era bianca come la neve lì fuori, chiuse gli occhi, la fronte le ricadde, era svenuta. Suo marito, fuori di sé, implorò aiuto. Avevano perso tutti la testa, allorché la suora più anziana, reggendo il capo della donna indisposta, le insinuò tra le labbra la tazza di palla di sego, facendoli ingoiare qualche goccia di vino. La bella signora si riscosse, aprì gli occhi, sorrise e dichiarò con voce supplichevole che ora si sentiva benissimo. Ma perché il fatto non si ripetesse, la suora la costrinse a bere un intero bicchiere di Bordeaux, dicendo «è la fame e nient'altro». Allora, palla di sego arrossendo, balbettò, guardando i quattro viaggiatori rimasti a stomaco vuoto. Dio mio, se i signori e le signore volessero gradire, tacque, temendo di offenderli e che le rispondessero in modo oltraggioso. Luosò disse «Perbacco, ma in casi come questi siamo tutti fratelli e bisogna aiutarci. Su via, signore, senza complimenti. Accettate che diamine! Non siamo neanche sicuri di poter trovare un posto dove passar la notte. Di questo passo non arriveremo a tot prima di domani a mezzogiorno». Gli altri esitavano ancora. Nessuno aveva il coraggio di prendersi la responsabilità di un sì. Il conte tagliò corto. Volgendosi verso la ragazzona intimidita, le disse con la sua aria da gran signore «Accettiamo con gratitudine, signora». Il primo passo era il più difficile. Una volta passato il rubicone ci si misero di buzzo buono. Il paniere fu vuotato. C'erano rimasti ancora uno sformato di fegato di allodole, un pezzo di lingua fumicata, alcune pere spadone, un pezzo di formaggio di pont-le-vac, dei pasticcini e una tazza piena di cetriolini e cipolline sottaceto. Palla di sego, come tutte le donne, andava matta per i sottaceti. Non era possibile mangiare la roba della ragazza senza rivolgerle la parola. Perciò cominciarono a parlare, dapprima con riservatezza, quindi, siccome ella si comportava molto bene, con maggiore cordialità. Le signore di Breville e Carrella Madon, che avevano di gran belle maniere, si mostrarono delicatamente cortesi. Soprattutto la contessa fece mostra dell'amabile condiscendenza propria delle nobilissime signore che nulla può contaminare, e fu affascinante. La robusta signora Loiseau, che aveva un'anima di gendarme, rimase scontrosa. Parlando poco e mangiando molto. Naturalmente si parlò della guerra. Si raccontarono cose orribili sui prussiani, episodi di coraggio dei francesi e tutta quella gente che fuggiva rese omaggio alla bravura altrui. Subito dopo cominciarono a raccontare i fatti personali e palla di sego, con vera commozione, con quel calore di eloquio che hanno talvolta le ragazze del suo genere quando esprimono i loro slanci naturali, narrò in che modo aveva lasciato Juan. Da principio credetti di poter rimanere, diceva. La mia casa era ben rifornita e preferivo dar da mangiare a qualche soldato piuttosto che scappare chissà dove. Ma quando ho visto quei prussiani, è stato più forte di me. Mi si è rimescolato il sangue dalla rabbia e ho pianto di vergogna tutto il giorno. Ah, se ero uomo, li guardavo dalla finestra, quei maialoni col casco a punta, e la mia donna di servizio mi reggeva le mani per impedirmi di scaraventargli i mobili addosso. Poi ne son venuti certi per stare a casa mia. Sono saltata addosso al primo. Non ci vuol mica tanto a strozzarli. Ce l'avrei fatta con quello, se non mi avessero tirato via per i capelli. Dopo mi son dovuta nascondere. Alla prima occasione me ne sono andata, ed eccomi qui. Palla di Sego fu molto complimentata. Ella saliva nella stima dei suoi compagni, i quali non erano stati risoluti come lei. Cornuide, ascoltandola, sorrideva con la benevolenza e l'approvazione dell'apostolo, proprio come un prete che senta un fedele lodare Dio, poiché i democratici con la barba lunga hanno il monopolio del patriottismo proprio come gli uomini in sottana hanno quello della religione. Egli parlò a sua volta con tono dottrinale, con l'enfasi che aveva imparato dai proclami appiccicati ogni giorno sui muri, e terminò con uno squarcio d'eloquenza in cui conciò a dovere quello sporcaccione di Badinghe. Subito Palla di Sego se ne ebbe a male, perché era bonapartista. Diventò più rossa d'una ciliegia, e balbettando per l'indignazione, avrei voluto vedere voi altri al suo posto. Bella roba. L'avete tradito voi, quell'uomo. Sarebbe meglio andarsene dalla Francia, se al governo ci fossero dei cittadini come voi. Cornuide era impassibile, con un sorriso sdegnoso e superiore, ma si sentiva che le parole grosse stavano per volare, allorché il conte si pose in mezzo e riuscì, non senza fatica, a calmare la ragazza esasperata, affermando con autorevolezza che tutte le opinioni sincere erano rispettabili. La contessa e la moglie di Carrella Madon, che nutrivano in cuore l'irragionevole odio della gente da bene contro la Repubblica e l'istintivo affetto che hanno le donne per i governi impennacchiati e dispotici, si sentivano loro malgrado attirate da quella prostituta piena di dignità che la pensava in un modo così simile a loro. Il paniere era vuoto. In dieci l'avevano asciugato con facilità, rammaricandosi che non fosse più grande. La conversazione andò avanti, un poco illanguidita ora che non c'era più nulla da mangiare.